Buongiorno, bentornati e bentornate al sesto episodio Digitech, una mini serie in cui stiamo esplorando gli aspetti tecnologici di una moderna piattaforma digitale a servizio delle assicurazioni. Io sono Ivano Mantegazza e sono un solution consultant di Guideware Italia. Nello scorso episodio abbiamo affrontato con Luca l'interessante e delicato tema della sicurezza. Oggi ci dedichiamo a un altro tema molto interessante ma che può fare ogni tanto alzare un po' un sopracciglio perché è un tema molto generico, parliamo di dati. Qui con me per aiutarmi appunto a capire meglio gli aspetti di questo ampissimo tema c'è Silvio Benedusi che è un Enterprise Data Architect di Guideware Italia e che ha una grandissima esperienza sul campo e a cui sempre mi rivolgo quando ho bisogno di capire meglio tutte le tematiche riguardante il mondo dei dati. Buongiorno Silvio. Ciao Ivano. Il tema dati dicevamo è molto ampio ma qui ovviamente ci vogliamo concentrare su dati che ci permettono di effettuare analisi di business, che mi permettono di capire se le scelte che ho effettuato sono corrette, che mi permettono eventualmente magari di aggiustare il tiro se qualcosa non sta andando nella direzione giusta e mi permettono quindi poi di prendere le decisioni informate per migliorare i processi. Dico bene? È proprio così Ivano, io penso che i dati diventano un asset strategico nel momento in cui vengono trasformati in informazioni per prendere scelte di business giuste al momento giusto e questa cosa è ancora più vera nel contesto odierno dove le assicurazioni oltre a cercare opportunità di crescita del business e di miglioramento dei processi si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse, improvvise e di ampia portata come quelle causate dal cambiamento climatico o dagli attacchi informatici. Quindi c'è una varietà di esigenze e ci sono diversi attori che hanno bisogno di dati con tempistiche e modalità diverse. Pensiamo un attimo alla Formula 1, c'è il pilota che in una frazione di secondo deve capire come scansare un ostacolo o come fare un sorpasso. C'è la squadra che pensa alla strategia di gara ma continua ad adattarla in base agli eventi. Ci sono gli ingegneri che valutano una miriade di variabili per migliorare il motore. Anche nel campo assicurativo ci sono esigenze di analisi di business molto diverse e quindi ci sono casi d'uso dove il fattore fondamentale è la velocità. Quindi ad esempio il calcolo immediato di fattori predittivi nel momento in cui si gestisce un sinistro o si valuta un rischio. Oppure il reporting operazionale near real time per una gestione tempestiva dei sinistri catastrofali o dei picchi di lavoro su assuntori e liquidatori. Però ci sono altri casi d'uso dove in realtà è fondamentale l'accuratezza e ci sono cadenze temporali prestabilite giornaliere, mensili, annuali. Mi riferisco al reporting finanziario che richiede anche elaborazioni complesse come il calcolo del prorata o del rapporto sinistri premi. O al reporting istituzionale dove se il dato è sbagliato si pagano anche le multe. Infine ci sono casi d'uso dove quello che conta è l'ampiezza e la profondità del dato. Quindi avere a disposizione tutti i dati con la granularità di tutte le variazioni storiche. E questo abilita una miriade di analisi, dalle analisi attuariali alle analisi del customer journey nelle piattaforme digitali, all'addestramento dei modelli predittivi e chi più ne ha più ne metta. Silvio, vedo che anche restringendo un po' l'ambito d'applicazione comunque abbiamo ancora una varietà di dati e di modalità. E quindi mi aspetto anche che non tutti i dati che ci hai descritto vengano trattati allo stesso maniere, quindi ci siano magari anche tempi diversi, modalità diverse. Puoi aiutarmi a capire un po' meglio se andiamo nella direzione giusta? Ci provo. Allora è vero che con la tecnologia disponibile al giorno d'oggi è possibile elaborare enormi moli di dati, un performance sempre migliori. Però è anche vero che ci sono casi d'uso che per loro natura hanno un concetto di finestra di osservazione temporale del dato che è prefissata, giornaliera, mensile, annuale, quindi in real time c'entra poco, e inoltre richiedono un'elaborazione del dato, la cosiddetta data curation, che inevitabilmente ha un costo. Però non è uguale per tutti i dati, perché è business driven, cioè dipende dall'esigenza che si vuole soddisfare. Facciamo un esempio mangereccio, parliamo di cereali. Ci sono i cereali in chicchi, il prodotto basilare. Poi ci sono prodotti intermedi come le farine e poi prodotti più elaborati come il pane, la pasta, la pizza. È chiaro che richiedono tempi e costi maggiori di produzione, però non è che tutta la materia prima debba per forza diventare pane, pasta, pizza o essere integrale o senza glutine. E poi resta il fatto che se si vuole fare una buona pizza, ci vuole il tempo che ci vuole, perché bisogna lasciare lievitare la pasta. Analogamente, nelle analisi di business, se pensiamo al reporting operazionale near real time, è chiaro che si predilige la velocità. Quindi il dato elementare viene sottoposto alla minima elaborazione sufficiente per ottenere gli attributi di analisi. Mentre nel reporting finanziario, oltre a dover effettuare calcoli complessi, è fondamentale la riconciliazione con il dato transazionale. Chiaro che però tutta questa complessità non serve applicarla a tutti i dati, basta applicarla al sottoinsieme di dati necessari. Chiaro Silvio. Beh, tanto per iniziare sicuramente con il concetto di pane, pasta, pizza, il concetto di data curation, non me lo dimenticherò più. E adesso mi viene in mente quel che si discuteva con i colleghi anche negli scorsi episodi, dove si parlava dell'approccio, diciamo, as a service, in contrasto con altri approcci più tradizionali. E mi domandavo se anche nell'ambito della data analisi, il concetto di as a service, può aiutarci in qualche modo. Sì, il paradigma SAS sta riscontrando un interesse sempre crescente anche nel mondo dati, perché consente proprio di cambiare l'approccio. Da un approccio tradizionale, basato sulla query diretta sul database, a un concetto di fruizione del dato come servizio, quindi data as a service. Il focus si sposta sul contenuto dei dati, sulla loro latenza e sulle interfacce di pubblicazione, senza doversi preoccupare di aspetti più tecnologici come la tipologia del database, l'infrastruttura sottostante, il monitoraggio dei processi e tutta una serie di problematiche di reperimento e preparazione del dato a basso valore aggiunto e facilmente automatizzabili. Quindi il paradigma data as a service consente di pensare a servizi dati che vengono incontro ai vari casi d'uso di cui abbiamo parlato. Dalla banale replica real-time dei dati transazionali per consentire di effettuare query che non pesino sull'operatività, al streaming in near real-time del dato grezzo con tutte le variazioni storiche, tipicamente utile per l'alimentazione di data lake, la pubblicazione in near real-time di dataset pronti all'uso per il reporting operazionale, oppure la pubblicazione batch di dataset molto elaborati per il reporting finanziario e in più la possibilità di creare dataset ibridi che consentono di combinare il dato grezzo e il dato molto elaborato restando nella stessa piattaforma. Quindi questo intanto consente di coprire un ampio spettro di livelli di curation del dato, ma abbatte anche i costi e i tempi legati alla movimentazione del dato tra sistemi e quindi semplifica la data governance, mentre in un approccio tradizionale i sistemi dove c'è il dato grezzo e i sistemi dove c'è il dato molto elaborato sono molto diversi e distanti tra loro, è difficile farli parlare. Vedo che questo approccio as a service è molto utile anche in questo ambito di data analysis e a questo punto ti chiedo quali sono i pregi e il valore che questi dati così trattati hanno per i data analysts che sono poi quelli che fruiscono dei nostri dati. E qui viene il bello perché nell'approccio tradizionale sappiamo che i data analysts sono costretti a spendere l'80% del loro tempo in attività prettamente tecnologiche di reperimento e preparazione di base del dato e quindi gli resta solo il 20% per ricavare valori di business dai dati. Diverse compagnie assicurative hanno cominciato a sperimentare questo nuovo approccio ai dati come servizio e i loro riscontri sono impressionanti. Cioè adesso i data analysts spendono solo il 20% del loro tempo in attività tecniche e riescono a dedicare l'80% del loro tempo a fare la vera business analysis che è quello che hanno sempre desiderato. Ebbè effettivamente hai toccato un punto importante perché questo ribaltamento della percentuale 80-20 va proprio anche nella stessa direzione in cui vanno le piattaforme core dove gli assicuratori si riappropriano del loro tempo e lo dedicano alle operazioni di business ad alto valore aggiunto e non diciamo agli aspetti più tecnologici e tecnici. E quindi a questo punto appunto il platform as a service, il data as a service, come li vedi diciamo andare a convergere verso diciamo in un ecosistema a servizio delle assicurazioni? Eh sì, perché poi ciascuna assicurazione ha il suo ecosistema di applicazioni di dati, un suo approccio al cloud, da quelle più scettiche a quelle che hanno già pensato ad architetture in multicloud e in generale una sua data strategy con relative tempistiche. Quindi in realtà ogni assicurazione può scegliere il suo percorso di adozione dei dati come servizio. Quello che conta è la flessibilità, la possibilità di scelta. Facciamo un altro esempio, mangiareccio da buon gustai. Pensiamo a un ristorante che vuole offrire ottimi dessert ai propri clienti. In base alla disponibilità di attrezzature e staff, può decidere se fare tutto in casa, comprare tutto dalla pasticceria o fare un mix e può cambiare questo approccio nel tempo in modo flessibile mantenendo comunque un livello alto di prodotto da dare al cliente finale. Quindi in quest'ottica l'approccio data is a service va visto come fattore abilitante che consente alle compagnie assicurative di raggiungere i propri obiettivi in maniera flessibile secondo la propria data strategy, selezionando i servizi dati che vanno meglio al momento giusto e in più abbattendo i tempi, i costi e i rischi di implementazione, perché si tratta di abilitare un servizio, non di implementarlo da zero. Dove è Silvio? Qua tra pasta, pizza e dessert, oltre a farci capire un po' meglio il mondo dei dati, cioè ha anche fatto venire una gran fame, quindi adesso salutiamo e andiamo a mangiare qualcosa. E davvero grazie Silvio per averci guidato un po' alla scoperta dei dati e del mondo dei dati a servizio delle assicurazioni. Quindi per oggi ci fermiamo qui e vi aspettiamo al prossimo episodio di G-Tech. Non mancate!